Salve amici, oggi sono in compagnia di Tatiana. Tatiana, oggi con te vorrei parlare della bellezza delle ragazze dominicane. La moglie dominicana ha molta bellezza, è una moglie luchadora, imprenditora, lavoradora che lucha per lo che vuole, a comodare il luogo. Tatiana, dimmi che relazioni hai instaurato con il turista italiano o comunque con il turista straniero quando viene qui a Las Terrenas? Se le tratta stupendamente, uno tratta di farlo sentire comodo, già che per noi il turismo è molto importante. Quindi noi trattiamo di farlo sentire comodo e a gusto con il nostro municipio, per che così siano con più desideri di tornare e di tornare. Che cosa intendi per farlo sentire a suo agio? Sentire a gusto, a gusto, come che quiera quedarsi, entiende? Sì. Sì, Tatiana, però in che modo cercate di far stare al meglio il turista qui? Bailando, invitandolo a fiestas, già che aquí si dà una fiesta buonissima, può essere cocinandole qualcosa, perché la comoda dominicana è stupenda. È meglio di quella italiana? Questo non lo so, però a me mi piace, sì, mi piace. Bueno, la italiana è anche provata molta comoda italiana e mi sembra buonissima, però anche la dominicana è buona. Tatiana, fammi un invito ai nostri amici italiani e a tutti gli altri turisti affinché vengano qui a Las Terrenas. Chi non ha venito, che non perde il tempo, che venga a Las Terrenas, che è un luogo meraviglioso, non si arrepentiranno e che daranno con il deseo di quedarsi, se si vanno, voler e voler, perché è veramente una esperienza inolvidabile. Chi non ha venito, chi non ha venito, chi non ha venito,